Musica Poi Patio, buongiorno Buongiorno Ma che ti la mascherina in grumurale? Ah, beh Ma che cazzo? Capitan Patio Presidente del club Milan Club Sì sì, per vent'anni Per vent'anni Guardi, non ce l'ho qua Tengo a tornare a portare chiaro, Grumurale E mi cercano a dire C'è quando portare chiaro? Eh, ma che ne sai Dall'84 al 2004 Vabbè, comunque Sono molti amici Ma se tornare a Roma Che c'è accanto? Eh, che c'è accanto? Quello che fanno Io c'è un buon king Ma io lo sai C'è la storia Del Paris Saint Germain Sessanta milioni per cinque anni Gli dà? Eh, eh Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? No, no, non me c'è Stanno furtito la cattola Dice che è bravo pure qui Quindi niente ve le fregge Ma che c'è? Beh, penso a Donnarumma 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 Quello che ha fatto Quello che ha fatto Quello che ha fatto Quello della Sampdoria Da mezzo campo Tornandes Sbaglia il tocco perché sì Quagliarella Punisce il Milan Fabio Quagliarella E avanti la Sampdoria Al minuto dodici della ripresa Di prima intenzione Con Donnarumma Metà strada C'è una cosa Ma ora Più con le dalle Ma le dalle Ma le dalle Ma i più sbagliari Più con ilas Ma lo chiamano pure romagnolo e va bene Se ci vuoi tanto romagnolo Ma romagnolo Ma lo chiamano E vabbè Vogliamo che lo rascattano 28 milioni Lo darà scattare Ma romagnolo C'è stato un giubbio di più. intendiamo delle scuole progrini rimane. ... ... Allora, se ti metti la coccia che hai il cappellano, io cappellano, se no, è quasi. Va bene, bacio. Va io. Usa il tuo negozio. A che negozio? Negozio riso. Ciao, negozio, ciao, ciao. Ma farò di controbieto, Fernando, si capisce? Ciao, ciao, negozio, ciao. Negozio, state buono, eh? Ciao, bacio. Donna a Roma, che non fa niente di questo, ma quella è la fregatura. C'è nato in mezzo al Murano, ha fatto feste che si è qualificato per la Coppa dei Campioni, lui è più contento, alla fine, dopo dieci minuti, dice io me ne vado, eh, va, va, sta fuori. Non è cresciuto il Murano? Ma speriamo che il Buonanello possa dare 60 milioni. Va bene. Bisogna vedere solo su questo, dicevo, sta per 50 anni quella, la Francia, capito? Che gli vuole dare 60 milioni, perché c'è da 50 anni. Ma niente manca tornare a Roma. Secondo me, il Procuratore, la famiglia che vuole fare quattro linee, Donnarumma non provo a Iamo. Ma io veramente spero che rimanga col mio, non lo so, eh, buono. Pure io lo spero ancora, pur se sono giuventino. Vabbè, quello va per soldi. Perché lo Murano, cosa? Lo Real Madrid, gli altri chiamano la cosa, la Juvenzi, aveva offerto 6 milioni. Quelli che pedeva lo Murano, lo Murano aveva da ottico, aveva da ottico. No, ma la Juvenzi non ci può mancheremo, che il Procuratore porterebbe buio. Forse la proposta di San Germano l'accetterebbe. Ma vabbè, non fa niente tanto, porterebbe io, porterebbe l'altro. Necollo e lupo lo vuoi portere? Sì, aveva la Serie A, necollo e lupo, necollo del Lico, cantare con i vetini. Sì, sì. Quello era meglio donnarumma di tutti. Sì, sì, dai, necollo e lupo, necollo e lupo era una canemota. L'arpezzava pure l'uomo, faceva uno sguardo. Eh, ma so che ne facevano, l'uomo era una specie, gli armettavano le pinte, belle precise, l'uomo era rivolta, ma... Non diventavano mai a fare l'uomo. Eh, no, no, no. Va, buon, faccio, faccio, faccio. Sì, 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 sì.